Ok, ok, direi che funziona. Abbiamo testato insieme queste gocce magiche per abbronzare il viso di Collistar, ma oggi proviamo un altro prodotto abbronzante. Il prodotto in questione è questa CC Cream di Herborean, quindi una crema viso che fa da mezzo fondo tinta, diciamo, ed è appunto una marca di skincare coreana, alla centella asiatica. Dovrebbe appunto illuminare e appunto rendere il viso anche abbronzato. Ciò è dato anche dal fatto che la colorazione è doré, quindi dorata. Io sono un fantasmino, quindi vediamo insieme com'è. La vado a mettere e risulta bianca. Oddio, forse ne ho messa un po' troppa lì sulla fronte. Quindi ne vado a mettere un po' qua, ok. E adesso la vado a stendere come se fosse una crema. Come minimo, adesso divento cavolo conti. Ok, ok, direi che decisamente sono più abbronzata. Devo andare a lavare le mani, arrivo. Ok, raga, sono passati tipo tre minuti. La sento leggermente appiccicosina, ma non l'ho di troppo fastidoso, anzi. Però un filino di cipri a caso mai lo darei. Del resto, oh, illumina perché vedo molto luminosa la pelle. Abbronza perché comunque la colorazione l'adore, quindi ci sta che comunque sia più scura del mio incarnato. Perché magari adesso io avrei un medium, diciamo. E devo dire, il risultato alla fine ovviamente a primo impatto è un attimo scioccante. Però poi mi ci abituo. E mi piace. Cosa dite voi? E mi piace.